La normativa NIS2 ha messo a norma alcune parole chiave che ripetiamo molto spesso, multirischio e resilienza. Vogliamo parlare dell'energia delle persone come linea di difesa strategica contro gli attacchi cyber e per farlo sono con noi Paolo Pomi, Chief Information Security Officer di Dumarei Group e Vittorio Bitelleri, Country Manager d'Italia di CyberGuru. Prego sia Paolo che Vittorio. Scusate ci sono sempre gli imprevisti dell'ultimo momento, Vittorio Bitelleri è stato momentaneamente trattenuto, sta cercando di raggiungerci, mi dice, mi dicono dalla regia che ha mandato un video e allora io direi di vederlo insieme. Regia. Ciao Giuseppe, dopo le ultime cose che ci siamo detti è palese che ci sia una divergenza su come concepiamo il lavoro. Detto questo non ho più alcun interesse a lavorare con un soggetto come te, quindi oggi non ci sarò. Non credo che ci saranno altre occasioni. Ti prego in futuro di non contattarmi più. Arrangiati. Scusate, dicevo appunto, gli imprevisti non mancano mai, bisogna sempre essere pronti ad affrontare ogni cosa, non so se, mi confesso, sono veramente pronto ad affrontare ogni cosa. Scusate, scusate. Cioè Vittorio... Sì? Scusate, ti è arrivato il messaggio di scuse. Sì, mi hanno detto che però abbiamo visto un video, avete mandato il video corretto, scusate. Cosa è successo? Ciao Giuseppe, guarda, sono mortificato ma la legge di Marfico pisce sempre, ho l'auto in questo momento in panne, ho chiamato un taxi e quindi non credo di riuscire ad arrivare all'evento prima di mezz'ora e 45 minuti. Se riesci gentilmente a gestire l'agenda in modo tale che possa fare l'intervento appena arrivo, te ne sono grato. Scusami ancora. Abbiamo visto un'altra cosa però. No, io questo ti ho mandato. Allora vuol dire che in regia mi hanno fatto uno scherzo? Abbiamo fatto uno scherzo. Grazie. Oggi parleremo di deepfake. Ecco, ecco. Allora, ciao. Allora, lo avete fatto anche molto velocemente, me l'avete fatta sotto il naso. Eh, abbiamo un po' deciso. Che cosa abbiamo visto? Cioè spiegami bene. Beh, abbiamo visto diciamo quello che oggi purtroppo è la cyber guerra del 2024, no? in cui il lupo arriva vestito da pecora, che in realtà diciamo non lo è. Questo da oggi abbiamo voluto un po' fermatizzare. Tu eri l'agnello... Io non so che... Il lupo è vestito da pecora, ma io ero l'agnello sacrificale. In realtà, diciamo, e purtroppo abbiamo usato un po' questo aspetto un po' scherzoso, però è un grosso problema. Quello che oggi si può fare in pochissimo tempo, veramente in dieci minuti o poco più, un quarto d'ora, per rendere molto credibili dei messaggi che in realtà non lo sono assolutamente, no? E quindi questo paradigma declinato a quelle che sono oggi le minacce informatiche creano, diciamo, un punto di vista esponenziale, l'esposizione, ma di noi tutti anche semplicemente come individui a quelle che possono essere delle situazioni molto dannose per noi e per le nostre aziende. In realtà, voglio dire, di fronte a questo tipo di minacce, molti si sentono immuni perché fanno affidamento alla propria capacità di discernimento, però una cosa del genere, insomma, io ero pronto a lasciare... Abbandonare. Abbandonare la sala. Cioè questo può creare veramente dei danni reputazionali enormi e siamo tutti esposti. Sì, diciamo che, come dicevo, siamo tutti esposti e soprattutto abbiamo poche armi in questo momento per difenderci, no? Quindi si cerca di lavorare, noi come Cyber Guru cerchiamo di lavorare sulla cultura, della sicurezza nell'ambito delle aziende. Anche perché leggevo che gli strumenti di verifica a supporto delle deepfake in realtà hanno una percentuale di successo poco sopra il 50%, quindi è un po' come affidarci al nostro proprio istinto, no? Tra vero o falso? E certo, giornalisticamente penso che forse dovremmo recuperare la cultura della verifica di ogni singola informazione che riceviamo. Ecco, di non essere semplicemente cassa di risonanza. Sì, diciamo che lavorare... Noi cerchiamo di lavorare facendo toccare con mano i nostri utenti quelle che sono situazioni che purtroppo accadono tutti i giorni. Solo toccandole con mano ti accorgi che effettivamente lo spirito critico, il buon senso, verificare tutte le cose, torniamo un po' indietro da questo punto di vista, è l'unica arma che abbiamo. Buon senso, spirito critico, sono concetti come dire non propriamente tecnologici, vorrei sottolineare questa cosa. Ecco, dal tuo punto di osservazione, tu vai in tante aziende, com'è cambiata la percezione? Anche in virtù dello scenario che ormai stiamo vivendo da un paio d'anni, provenendo da un'esperienza ancora più traumatica che quella del Covid, come sta cambiando, come si è evoluto l'approccio alla cyber security? In termini di formazione, considerando anche quelle che sono state poi le nuove regole introdotte dalla direttiva europea in proposito. Sicuramente, diciamo, l'ambito è molto ampio, nel senso che troviamo aziende molto virtuose, che già da tanti anni hanno avviato dei percorsi di formazione, di addestramento dei propri dipendenti, diciamo altre un po' meno, ma sicuramente adesso le nuove normative di Dorenis 2, anche ai più resti, in qualche modo, impongono certe tipologie di normative. Sorrido ogni tanto quando ancora oggi in qualche azienda ci dicono la formazione, l'addestramento sì però al management, al board, perché sono impegnati, non hanno tempo per. In realtà, il mio vecchio capo mi diceva, raccontava il pesce, puzza dalla testa. Oggi le persone dei board sono quelli più, diciamo, attaccate, no? Da punto di vista anche immagine aziendale, e quindi noi vediamo che nel nostro caso, nel nostro piccolo punto d'osservazione, le aziende che hanno più virtuose sono quelle dove proprio il board e magari il management sono i primi, diciamo, alimentatori di certi percorsi formativi e credo che Carlo, che qua oggi, può aiutarci anche a raccontare un'esperienza di un'azienda virtuosa che è comunque proprio loro per primi, il management, investe molto, anche da un punto di vista semplicemente di comunicazione verso i dipendenti su certe metodologie formative, indipendentemente con chi uno le faccia e questo credo che cambia la postura dell'azienda. Anche gli obblighi e le sanzioni previste dall'azienda, credo sia una leggera spinta a creare, come dire, un'onda culturale di cambiamento nei confronti della cyber security. però, forse dobbiamo partire da un fatto, rendere i propri dipendenti più consapevoli delle minacce sicuramente migliora la postura di cyber security dell'azienda. Chiedo a Paolo Pomi che è inciso di Dumarei Group. Da dove siete partiti? Allora, racconterei, Dumarei è un'azienda che si occupa di automotive. Lavoriamo sia su ambiti di ingegneria, quindi disegniamo sia produciamo a seconda della sede. Noi siamo un'azienda di 3.000 dipendenti, un billion di fatturato, principalmente tra Italia e Francia. E i nostri clienti sono i grandi OEM, quindi i vari General Motors, Volkswagen, o i quelli che lavorano per loro, quindi i vari continent al vitesco. È vero che è un mondo regolato, anche noi abbiamo i nostri regolamenti, ormai abbiamo una serie di vincoli che ci impongono di fare certi percorsi, ma non credo che la formazione debba essere fatta per compliance. Noi facciamo tantissime margin acquisition, il mondo dell'automotive si muove fortissimo. Nel migliore dei mondi possibile sarebbe così, di fatto però vediamo che la fatturazione elettronica se non ci fosse stata l'obbligo di compliance non sarebbe e forse probabilmente abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia un calcio per fare le cose. Tutto ciò che aiuta a convincere le mie interfacce a fare qualcosa di più è sempre ben accetto. Ho la fortuna di avere altri vincoli, probabilmente senza certi vincoli forse non avrebbero deciso che era necessario avere un ucciso in azienda. Quello che credo io è che nel momento in cui lavori con un processo di margin acquisition hai bisogno anche di attività che siano velocemente deliverabili. mediamente deliverare un XDR su server e macchine sui client due mesi. Sui server sei mesi ora che riesce a deliverarle a renderle attive a renderle proattive vi dicendo. Delivery di un processo di formazione un mese. Elenco delle persone divisione per i dipartimenti comunicazione dell'HR si parte. Dopo tre mesi parte la simulazione e comincia a guardare dei dati. Quindi ha questo fattore di velocità ed è indipendente dalle tecnologie quindi anche se tu le tecnologie magari le hai ancora differenti questo percorso lo puoi erogare. Io credo molto che l'utente debba diventare la prima linea di difesa non possiamo continuare tutti quelli che lavorano nel mio settore conoscono la famosa immagine della box in cui da un angolo dico da quest'angolo ci sono i firewall gli antivirus le competenze e dall'altro c'è Bob che preme il tasto basta. L'utente deve essere una parte importante della difesa dell'azienda c'è un utente che segnala un phishing è importante non soltanto perché lo ha evitato lui ma perché addestra i motori per fare in modo che sia probabile che quelle mail simili vadano già segnalate come phishing. Questo lo puoi fare solo formando le persone e credendone le persone. Poi ha anche un altro vantaggio parlando appunto di management che se tu riesci a spingere il management a seguire dei percorsi formativi a comprendere realmente il rischio e non a farla riscanalisi sull'Excel una volta all'anno che gli fai vedere una slide così sei a posto per le normative quando gli parli di un problema sono consapevoli di quello di cui gli stai parlando poi magari non sono d'accordo a spendere questo non è garantito e sulla parte degli investimenti non abbiamo soldi per tutti gli sponsor però bisogna anche convincere e avere dei percorsi per ingaggiare i dipendenti ad accettare questi corsi di formazione cioè io ne ho fatto qualcuno non sono molto divertenti è un po' come vedere asciugare la vernice oppure dover leggere un manuale di istruzioni quando mai è troppo tardi per farlo cioè come si rende anche la formazione più sexy ecco concedetemi questo parto al contrario noi oggi abbiamo a che fare non con dei dipendenti ma con delle persone queste persone lavorano in azienda ma dall'altra parte hanno un telefonino dove tipicamente hanno sopra le foto dei figli che dopo pubblicano su facebook con faccine banane eccetera eccetera perché non vogliono effettivamente poi che siano pubbliche i loro dati sanitari i loro soldi formare le persone in azienda per insegnare loro a proteggersi è importante per tutelarle come persone lo vedo quasi un tema di welfare poi c'è un altro c'è un altro tema fondamentale si parla molto di formare di fare training qua si parla di addestramento cioè chi ha fatto ingegneria quanti integrali ha fatto prima di riuscire a farli bene non uno o due ecco diciamo io mi ricordo che hanno fatto un certo numero quando era toccato a me cioè devi sviluppare un sesto senso chiamiamolo così e una sospettosità rispetto a quelli che sono tutti i canali di comunicazione che puoi sviluppare solo da un lato bombardandoli tutti i mesi con dei contenuti che non siano noiosi e non sia io che gli presento il protocollo TCP il protocollo cifra perché uno non gliene frega niente e due non è quello che a loro serve devono essere delle cose brevi ripetute nel tempo che da un lato informano ma dall'altro a destra ne parlano di problemi reali che vivono nella vita di tutti i giorni ma il management che è obbligato dovrebbe dire sì vabbè facciamo il corso di formazione perché l'abbiamo fatto poi quello che resta gli mando una bella mail di phishing loro ci cascano e dico stavolta ero io la prossima volta potrei non essere stato io e a quel punto l'attenzione sale moltissimo io credo che si parlava di sapere di non sapere in studi molto più vecchi di questo la falsa confidenza dire ma non ci cascherò mai è la prima cosa che uno deve smontare e deve partire dalla testa io su questo sono abbastanza fortunato mi danno abbastanza retta forse anche perché non faccio tanto dottor no e questo credo che sia un parametro importante mettere in campo poche cose che cerchino di non impattare tantissimo il lavoro delle persone e che le rendano consapevoli che in qualche modo devi proteggere il loro lavoro e la loro vita perché il mondo oggi ha una serie di business di natura criminale che rendono moltissimo con budget enorme crescita perché molti pagano i riscatti di conseguenza l'unico modo che abbiamo è renderli consapevoli che questo mondo è pericoloso ecco Vittorio la NIS 2 e anche Dora lo dicevamo prima hanno messo a norma due parole chiave che sono resilienza e awareness ecco come si portano in azienda gli approcci nuovi di consapevolezza e qual è il rapporto tra queste due parole chiave ma diciamo che portare in azienda da contenuti è sempre come dicevi anche tu diciamo difficoltoso noi siamo partiti un po' da un punto di vista più della metodologia che dei contenuti quindi andare a sviluppare contenuti realistici di corte durata per portare l'attenzione diciamo sugli utenti diciamo partendo da il nostro utente tipico ed ori nel fin di nemo in cui si dico le cose dopo due minuti se le dimenticate il nostro utente deve essere continuamente diciamo istruito proprio per avere perché il nostro obiettivo è un obiettivo estremamente ambizioso che è quello di far cambiare i comportamenti delle persone e non lo fai con una sessione di training di un'ora ma lo fai diciamo piano 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 e quindi diciamo rendendo accattivante per contenuti per attualità delle informazioni che tu vai a deliverare quotidianamente ma soprattutto facendo toccare con mano con gli attacchi che riceviamo oggi tutti i giorni con i cure code con wishing con email di phishing e quindi mettere i nostri utenti di fronte a quello che è effettivamente la problematica di tutti i giorni nel momento che tu caschi in questo tipo di trappole sicuramente è sicuramente molto più difficile che tu perpetrerai lo stesso errore che hai fatto in un addestramento ecco quindi la formazione non è un punto di arrivo per spuntare una lista di cose da fare ma è un percorso continuo se vogliamo anche un punto di partenza assolutamente sì diciamo noi diciamo parametriamo sempre un po' come è il personal training in una palestra che tu quando inizi a fare un certo tipo di formazione di allenamento se poi lo interrompi drammaticamente poi ritorni indietro nelle settimane e nei mesi ai punti ancora prima di come hai ripartito quindi una formazione continua che ti consente di tenerti in allenamento sempre aggiornato con le nuove minacce che accadono tutti i giorni ecco rispetto alla consuetudine di chiedere il giro finale di tavolo con le conclusioni vi avevo annunciato che quest'anno avremmo introdotto questa modalità nuova dello stand up quindi io inviterei prima Paolo Pomi e subito dopo Vittorio Bitteleri ad avvicinarsi qui al podio e li ascoltiamo non posso non parlare di intelligenza artificiale ci è arrivata e non possiamo almeno dal punto di vista di noi che facciamo sicurezza dire io la bloccherò quindi dobbiamo in qualche modo gestire quest'ennesimo problema io trovo che questi eventi siano importanti perché figure come la mia ha sopra di sé dei capi che non capiscono esattamente che lavoro facciamo dicono tipicamente senti fammi spendere poco fai in modo che non ci buchino e prendiamo le certificazioni buon lavoro il confronto è importante però perché tutti noi affrontiamo problemi leggermente diversi ma molto simili tra cui appunto l'intelligenza artificiale uno di questi come la gestisco come faccio in modo che gli utenti ne siano la possano utilizzare senza mettere in rischio l'azienda più del necessario e per fare questo come tante altre cose credo che sia importante confrontarsi continuamente quindi il network tra quelli che fanno il mio mestiere tra quelli che fanno mestieri simili ma anche il fornitore che ti propone la situazione diversa rispetto a quello che già avevi in qualche modo una challenge continua che ci porta a cercare di migliorare ecco credo che questa sia la chiave affrontiamo questi eventi in maniera molto aperta non dicendo questa cosa già ce l'ho perché potrebbe esserci l'opportunità di fare qualcosa di leggermente diverso oggi o magari domani oggi noi abbiamo facciamo un certo mestiere domani ne faremo un altro in qualche modo questo tipo di mentalità credo possa arricchirci come persone e come professionisti ecco una cosa che mi avevo dimenticato di dire e che mi è stata vivamente raccomandata dal nostro fotografo tutti voi avrete dei ritratti che poi ci serviranno per costruire il numero speciale dell'evento che uscirà a dicembre e approfitto come dire il vostro miglior sorriso 30 secondi per il fotografo perché altrimenti lo facciamo lavorare tantissimo e anche Vittorio quando verrà qui al podio grazie grazie vittorio a te la parola e grazie per lo scorso che mi hai fatto grazie chiaramente diciamo che lo scherzo voleva essere diciamo lo spunto per parlare del del deepfake e in generale diciamo questa cosa qua che almeno a me personalmente preoccupa tantissimo preoccupa tantissimo e credo che noi tutti come aziende come istituzioni e come e come anche esperti tra virgolette del settore dobbiamo fare cultura io personalmente la faccio con l'altro giorno ho fatto uno scherzo a mio papà facendogli vedere un video che dicevo che ero diventato della Juventus e lui ci ha creduto ovviamente non ero io e non potevo diventare della Juventus essendo di Torino però diciamo che purtroppo diciamo non ci sono ancora quel dato che tu dicevi noi stiamo facendo un po' di sperimentazione per capire anche gli stessi difetti che facciamo noi la veridicità siamo sul 50% quindi oggi onestamente io almeno oggi non ho una soluzione per questo se non quello di lavorare come dicevamo sulla cultura di noi tutti dei nostri parenti dei nostri amici e dei nostri dipendenti e cercando di sensibilizzarli e come dicevamo all'inizio quello spirito un po' critico di buon senso pensare sempre prima di agire una volta era sul click adesso fare azioni è probabilmente l'unico consiglio che mi sento di dare momentaneamente non è un gran consiglio positivo però oggi onestamente non vedo altro grazie Vittorio grazie Vittorio grazie Vittorio grazie Vittorio grazie Vittorio grazie Vittorio